Ciao a tutti, mi trovo a bordo di una delle Opel Crossland a chilometro zero qui al centro d'auto d'occasione Barchetti di Brescia. Su queste Crossland riserviamo un'offerta imperdibile. Potete infatti portarvela a casa con soli 199 euro al mese, guidarla per quattro anni e poi decidere se tenerla o restituirla. Il modello che vi mostro oggi è un Opel Crossland allestimento Advance che è un 1.2 a benzina da 82 cavalli. Crossland è un crossover compatto votato sicuramente a una guida rilassata grazie ai consumi che sono molto ridotti, parliamo di 19 chilometri con un litro in percorsi urbani. L'abitacolo è spaziosissimo nonostante i 421 centimetri di lunghezza. Guardate per esempio quanto è ampia la plancia. Comodo anche il tunnel centrale grazie al bracciolo che lascia parecchio spazio nel tunnel per due portabicchieri e un vano portoggetti molto molto grande. I sedili sono in tessuto e regolabili in tutte le direzioni. Presenti anche di serie alcuni sistemi di assistenza alla guida come il riconoscimento dei cartelli stradali, il mantenimento in corsia e il sistema di assistenza alla partenza in salita. I cerchi sono in acciaio da 16 pollici, volante a tre razze regolabile in altezza e profondità con comandi infotainment. Lo schermo è touchscreen da 7 pollici mentre le manopole dell'aria condizionata rimangono sopra la leva del cambio. Lo spazio è tanto anche dietro dove si sta comodi anche in tre grazie alle dimensioni ridotte del tunnel centrale. Il bagagliaio è molto spazioso da 410 litri estendibili fino a 1255 se si buttano giù i sedili posteriore. Vi ricordo che l'offerta per Opel Crossland a 199 euro al mese per quattro anni è valida solamente sulle Opel Crossland a chilometro zero barchetti e vi ricordo anche che da barchetti acquistate con la garanzia soddisfatti o rimborsati che vi permette di provare l'auto per un mese e fino a mille chilometri e di restituirla nel caso in cui non vi sia piaciuta. Queste Opel Crossland insieme a tante altre auto a chilometro zero usate e aziendali potete trovarle solamente al centro auto d'occasione barchetti di Brescia. Grazie.